Sta arrivando il Natale e non sapete cosa regalare al vostro amico, amica o fidanzato o fidanzata Nonno, nonna, padre, madre, nipote Ma mettiamo il caso che il vostro amico, amica, fidanzato, fidanzata, mamma, padre, nonno, nonna, nipote, nipotino, conquilino Si è un malato di economia e quindi deve soddisfare assolutamente questo bisogno Oppure un novizio che vuole approfondire questa materia, vuole conoscerla meglio Oppure ancora uno studente di liceo che magari vuole vedere se effettivamente l'economia potrebbe fare parte anche del suo percorso universitario E quindi fondamentalmente di tutta la sua vita Beh allora questo video fa il caso vostro Infatti vi andrò ad elencare 10 libri di economia divulgativi quindi che non necessitano di una grande conoscenza di economia Prima di approcciarsi a questo libro Però nonostante ciò alla fine di questo libro avrete un sacco di strumenti in più per capire il mondo e ciò che succede intorno a voi Partiamo da tre libri che non ho fisicamente adesso ma che comunque ho avuto l'occasione di consultare tramite librerie o biblioteche Quindi Whatsapp Economy Approved Ah e se volete compensare la mia povertà in descrizione c'è un link per una wishlist di Amazon dove è pieno di libri di economia che potete regalarmi Tra cui anche questi tre Partiamo dal primo libro e cioè dal libro del business Questo libro fa parte di una catena molto più ampia nella quale ogni libro va ad approfondire una materia scientifica alla volta Ad esempio io ho il libro della psicologia però ce ne sono tanti altri come della biologia, della storia eccetera eccetera In questo particolare caso e cioè nel libro del business il libro va ad approfondire tutte quelle tematiche inerenti al mondo del management, del marketing, della creazione di valore per l'impresa, della strategia Quindi se magari siete al liceo e volete sapere che cosa fa un corso di studi di economia riguardante il management Beh magari questo libro vi può dare un'inferinatura generale che poi magari vi può aiutare alla scelta del vostro futuro universitario Secondo libro sempre facente parte di questa catena di libri appunto è il libro dell'economia Al contrario del libro del business il libro dell'economia prende in esame tutte quelle tematiche che fanno parte della materia delle scienze economiche O in inglese anche detta economics Quindi magari tutte quelle materie di cui Whatsapp Economy appunto prende in considerazione maggiormente E quindi macroeconomia, microeconomia, teoria dei giochi, tutto questo mondo molto teorico Da cui fanno capo anche la matematica, la psicologia eccetera eccetera Molto interessante che molto spesso viene sottovalutato Perché appunto se vai a parlare di economia subito c'è il collegamento al marketing o al business eccetera eccetera Però molto fondamentale quindi se magari volete approfondire un attimo qualcosa di più teorico Al posto del libro del business beh andate a comprare questo libro dell'economia All'interno troverete numerosi economisti molto famosi tra cui ad esempio Keynes, Smith, Kenneth Arrow, Joseph Schumpeter eccetera eccetera Tutti i più grandi economisti probabilmente li troverete in questo libro in maniera molto ridotta però vi danno in farinatura generale Terzo libro Il lessico della finanza Anche qui questo è un libro che fa parte di una trilogia di libri sempre incentrati sulla finanza E quindi sulla divulgazione della finanza Questo libro in particolare è un vero e proprio vocabolario della finanza Quindi se magari quando in televisione sentite parlare di Bond, Bot, appunto Bailin Come funziona il mondo della finanza Beh magari questo libro può darvi una mano a capire un po' di più il mondo che vi circonda Quarto libro Soldi di John Kenneth Galbraith E questo è uno dei più grandi economisti di tutta la storia anche se non ha vinto il premio Nobel E' molto... scrive molto semplice ma comunque riesce a divulgare in maniera eccezionale la materia economica Di questi... di Galbraith ho numerosi libri tra cui appunto questo Soldi Che fa tutto un excursus storico su come si sia evoluta la moneta durante tutto l'arco della storia Ad esempio come non citare un aneddoto che ho anche citato qualche tempo fa anche sulla mia pagina Instagram Dove appunto in questo libro è presente la storia di come alcune colonie americane usassero il tabacco come moneta di scambio Ovviamente il tabacco come moneta non è che funzionava granché E quindi creava tutta una serie di problemi che nel libro vengono spiegati Ma come questo ce ne sono tanti altri E' un po'... sono 300 pagine Sì 320 pagine Però veramente Galbraith scrive molto semplice e molto fluido da leggere Non utilizza termini super complessi Ed è sempre apprezzabile leggerlo e capire qualcosa in più del mondo Soprattutto della storia economica Quinto libro La nuova geografia del lavoro Quanto ho amato questo libro quando l'ho letto Avevo grandi aspettative e non mi ha deluso Se voi ancora pensate alla lotta proletaria Ai diritti dei lavoratori In maniera classica come ancora gli descriveva il comunismo Beh, leggetevi questo libro e ricredetevi Ovviamente non siamo più in una società industriale come spiega benissimo questo libro Bensì siamo in una società post-industriale Quindi non possiamo pensare al mondo d'oggi come a un mondo del 1800 o del 1900 E' avvenuto un cambio tecnologico che ha imposto un nuovo standard per quanto riguarda l'economia La distribuzione delle risorse E ovviamente non possiamo leggere questo mondo con chiavi del 1800 di Marx eccetera eccetera Quindi di tutta la lotta proletaria e tutto il resto Capiamo benissimo come i nuovi proletari sono altri Come la tecnologia sia il driver per la crescita Spiega anche ad esempio come effettivamente perché Milano si stia sviluppando molto di più di altre aree dell'Italia Enrico Moretti è un economista che insegna a Berkeley quindi il libro è impostato molto sull'economia americana Però nella versione italiana troverete anche degli esempi per quanto riguarda il contesto italiano Di nuovo ve lo consiglio Quanto sei bello Leggetelo Sul sesto libro andiamo sulla storia economica E andiamo a citare uno dei più grandi storici italiani di tutti i tempi E cioè Carlo Maria Cipolla Con il suo Storia economica dell'Europa pre-industriale Che dire questo è un libro fantastico per me L'ho studiato e ci ho dato anche un esame tra altri libri per quanto riguarda il corso di storia economica E ovviamente come appunto cita il titolo Ripercorre tutta la storia economica dall'anno 1000 fino a poco prima alla prima rivoluzione industriale E' un libro per me fantastico E' un po' anche qui un po' lunghetto Magari non so per i vostri standard Sono 420 pagine Però anche qui è molto divulgativo Non c'è nulla di particolarmente difficile da capire E' molto digeribile Ci sono un sacco di aneddoti per quanto riguarda la storia economica della società pre-industriale Possiamo vedere come in molti casi i meccanismi dell'economia non siano cambiati Anche in un contesto così antico come appunto tutto il periodo pre-industriale O come anche molte volte si è totalmente cambiato Ci sono veramente Poi appunto Prendi in esame tutta l'Europa Quindi prendi in considerazione sia l'Italia, la Spagna, la Francia, l'Inghilterra E se siete appassionati di storia Non potete perdervi questo grande libro di questo storico appunto cipolla Molto famoso E questa storia economica dell'Europa pre-industriale è un must-have Se siete appassionati di economia Settimo libro Anche qui come il quinto parliamo di tecnologia Parliamo di innovazione Parliamo di futuro E in particolare parliamo di rivoluzione industriale Con 4.0 La nuova rivoluzione industriale Di Patrizio Bianchi Anche qui libro molto bello da leggere Molto piacevole E alla fine di questo libro vi troverete con tanti strumenti in più Per capire cosa potrebbe accadere in futuro O che già sta accadendo attualmente Ad esempio un piccolo aneddoto che ci racconta Patrizio Bianchi In questo libro è come la quarta rivoluzione industriale Sia stata la prima rivoluzione industriale Che l'uomo l'ha definita prima ancora che avvenisse Oppure ancora c'è una introduzione fantastica In questo libro Dove ripercorre tutte le rivoluzioni industriali Con una dialettica veramente ottima Un riassunto eccezionale Riesce a spiegare cosa sia successo in queste rivoluzioni industriali Perché siano successe E' veramente fantastico E secondo me queste poche pagine di introduzione al libro Che riguardano la rivoluzione industriale Secondo me le devono leggere tutti Almeno una volta nella vita la devono leggere tutti Per capire in poche parole cosa sia successo in quel periodo Ottavo libro Lorenzo Forni Nessun pasto è gratis E come sottotitolo c'è Perché politici ed economisti non vanno d'accordo Questo libro l'ho utilizzato anche per scrivere L'ultimo video che è uscito Quello su Il vero problema dell'Italia E' un libro fatto veramente bene Anche qui molto divulgativo Quindi niente necessità di conoscere molte nozioni Per quanto riguarda il mondo dell'economia E vi spiega perché politici ed economisti Vanno così in contrasto Così in disaccordo E lo spiega in maniera veramente ottima E molto comprensibile a tutti E' un libro fatto veramente bene Quindi molto divulgativo Quindi non richiede la conoscenza di numerosi concetti economici Per poterlo apprendere a pieno Prendi ad esempio molti casi di stati Che sono andati a fallimento E quindi analizza tutti quei casi Per cui appunto politici ed economisti Non sono andati mai d'accordo E perché avviene questa dinamica qui Per cui i politici non ascoltano Molto spesso gli economisti Anche se magari l'opinione pubblica Pensa che gli economisti sbagliano Ma in realtà molto spesso sono i politici Che non danno ascolto agli economisti Quindi Nessun pasto è gratis Che magari molti italiani Non sono convinti di questo E pensano che le risorse siano illimitate Beh in realtà no Le risorse sono limitate E quando finiscono Beh dobbiamo pagarne le conseguenze E appunto del titolo Nessun pasto è gratis Per il nono libro Visto che nell'ultimo video Mi avete chiesto in parecchi Un libro sulla teoria dei giochi In descrizione a quel video Trovate un libro teorico Sulla teoria dei giochi Invece in questa occasione Prendiamo come libro di teoria dei giochi Un libro un po' più pratico E un po' meno teorico E cioè Un mondo in conflitto Teoria dei giochi applicata In questo libro potete trovare Un sacco di casistiche Dove possiamo applicare la teoria dei giochi E che la teoria dei giochi ci aiuta a capire Come questi casi possono svolgersi In maniera realistica Ogni casistica nella teoria dei giochi Viene definita gioco E in questo libro ce ne sono tantissimi Ad esempio Il gioco del sequestro di persona e informazione La guerra fredda e la fine del mondo Il gioco dell'ombrello e le condizioni meteo Paura reciproca e fine del mondo Agenzie delle entrate e imprenditori conguri Il ruolo della laurea nel mercato del lavoro In questo libro viene anche analizzato il conflitto israelo-palestinese Ad esempio E come anche non citare il famosissimo Dilemma del prigioniero Che è uno dei giochi più famosi della teoria dei giochi E anche qui è presente in questo libro Con tante applicazioni nella vita reale Ed è presente anche il gioco del pollo Che ho citato anche nello scorso video Insomma La teoria dei giochi è estremamente interessante E se volete vedere qualcosa di applicativo Beh Questo libro fa per voi Per il decimo consiglio Andiamo a citare il libro di Daniel Kahneman Premio Nobel per l'economia E cioè pensieri lenti e veloci Daniel Kahneman, psicologo, in questo libro Va ad approfondire tutte quelle tematiche economiche Che prendono il nome di economia comportamentale E cioè quella branca economica Che va a prendere in considerazione E come i soggetti economici prendono le decisioni E in particolare come questi soggetti economici Siano delle persone non perfettamente razionali E che quindi possono sbagliare In particolare Kahneman afferma Come le persone molto spesso Per prendere delle decisioni Utilizzano due tipi di pattern Un pattern veloce E un pattern lento Il pattern veloce appunto È un metodo decisionale molto veloce Ma che consiste anche In una probabilità di errore molto elevata Rispetto al pattern lento Che ovviamente richiede più tempo per eseguirlo Ma che ha una maggiore sicurezza Di prendere la decisione corretta Un esempio pratico per capire questo concetto È quello della mazza da baseball e della palla Una mazza da baseball e una palla costano insieme 1,10$ La mazza costa 1$ più della palla Quanto costa la palla? Se avete detto 10 centesimi Beh avete applicato un metodo decisionale veloce E che ovviamente in questo caso è sbagliato Infatti se applichiamo un metodo decisionale lento E andiamo a calcolare effettivamente come stanno le cose in modo algebrico Scopriamo che effettivamente la palla costa 5 centesimi Mentre la mazza da baseball costa 1$ e 5 centesimi Libro molto consigliato se volete appunto approfondire questa branca dell'economia Che è l'economia comportamentale E che quindi prende molti spunti per quanto riguarda il mondo della psicologia E niente detto questo ci vediamo al prossimo video Che sarà settimana prossima e parleremo di MES Se volete supportarmi in link in bio ci sono tutti i link per questi libri E se cliccate da questo libro e acquistate Io mi fregherò una percentuale da Amazon E niente ci vediamo al prossimo video Ciao E buone letture eh Se comprate uno di questi libri Mi raccomando compratelo Perché appunto vi danno un po' di strumenti in più Per capire il mondo intorno a voi E se non vi occupate di economia L'economia si occuperà di voi Ciao 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 Ciao